Noi abbiamo ricevuto una donazione dall'esercito italiano di pasta e altri generi alimentari che contribuirà all'assistenza alle 600 famiglie che settimanalmente governiamo come volontari insieme a Sueminenza, al CAIR e alla Caritas. Inoltre stamattina Sueminenza benedirà il nostro Doblò che è stato acquistato con delle offerte raccolte da privati con una campagna di fundraising e poi successivamente partirà di nuovo la consegna alle famiglie. Le vostre attività come stanno funzionando in questi giorni? Diciamo che stiamo lavorando a pieno ritmo, i ragazzi sono entusiasti di quello che fanno la cosa più bella è vedere che c'è tanta gente che sorride quando ci vede arrivare.